Il grande ex Alessandro Grande, prima di tutto poi parliamo della partita e le sensazioni di tornare a Firenze. No, vabbè, sensazioni belle, comunque da quando è uscito il calendario, questo obiettivo sono andato a vedere, insomma, quando avremmo giocato, quando sarei tornato qui. Forse anche troppo presto, avremmo potuto avere un altro tipo di partita, però insomma mi ha fatto piacere aver visto dei sorrisi, aver visto dei saluti. Ovviamente, prima della partita si è cercato di pensare alla partita, poi dopo, insomma, non si cancella quello che c'è stato, quindi io sono stato bene e mi ha fatto piacere che anche delle persone mi abbiano, insomma, dato del calore. Allora, sei stato chiacchieratissimo nell'estate per la tua scelta, oggi la Fiorentina ha vinto anche meritatamente, imponendo una fisicità che forse in questo momento voi soffrite un po'. Noi, posso assicurare che non siamo questi al 100%, Firenze è stata brava ad aggredirci, come hai detto te, e noi ci siamo fatti aggredire, ha messo risalto delle difficoltà che ancora abbiamo, anche a livello proprio di conoscenza l'uno con l'altro. Abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di tempo. Non voglio usare come attenuante il fatto che si è giocato una partita, che qua non si è giocato una partita, che ci fosse l'assenza di Carlo, perché di qua c'era l'assenza di Berti. Questi sono tutti i dati che contano, ma fino a un certo punto credo che la differenza sia stata nell'approccio e nel non riuscire mai forse a prendere un po' l'inerzia in mano. Perché anche nel momento in cui abbiamo avuto un parziale, tolti gli episodi, magari sai una tribata a bellone che ti può tagliare un attimo le gambe, ok. Comunque non c'è stato quel guizzo in più, quel fallo giusto, quella cattiveria. 28-19, siete partiti bene. Poi comunque su te ci sono state attenzioni particolari, perché Bastone, Savoldelli, Droker, spressatissimo, l'aria sempre superintasata. Che è successo? Il Cuccarolo sicuramente ha dato una dimensione diversa alla loro fisicità e poi Vico quando entra in ritmo un giocatore, che fa male non lo sappiamo anche bene dall'anno scorso. Infatti Seba ha fatto un po' fatica nelle prime partite, ma sappiamo tutti che è un fattore, che è un atleta, che è un realizzatore in questa categoria. Può decidere le partite e l'ha fatto. Per quanto riguarda Cuccarolo, devo dire che alla fine è stato un fattore, però è stato limitato dove si poteva limitare. È stato lui bravo in altre cose. Forse ci ha messo un po' più in difficoltà in difesa, quindi contro il nostro attacco, di quanto pensassimo. Però, ti ripeto, tutto su un fatto di aggressività e decisione siamo stati un po' balbettanti. L'ultima cosa che ho domandato anche a Marcello Ghizinardi, nasce un po' un duello, come l'anno scorso secondo te, oppure, come ha detto Marcello, è un campionato molto equilibrato e non è soltanto Omegna contro Firenze? Allora, forse è presto per dirlo. Sicuramente le trasferte toscane saranno toste per tutti, perché, per esempio, noi credo che la vittoria a San Mignato sia valsa tanto, sia pesante, perché credo che molta gente faticherà lì. Questo, ovviamente, come altri campi toscani. È presto, però è anche tutto molto diverso. Nel senso che Firenze è un altro tipo di squadra, Omegna è un altro tipo di squadra, anzi, forse sono un po' scambiate dal punto di vista dell'idea bravo di gioco e quindi è ancora presto. Sicuramente ci troveremo in alto, questo credo che si possa dire, perché siamo ambiziosi entrambi e vogliamo stare lì, quindi lavoreremo per stare lì, però niente scontato, insomma. Grazie.